L'estate sta finendo, sarebbe il caso di iniziare a cantare e con essa anche le vacanze. E' incominciato proprio in queste ore il primo controesoto di questa estate 2021 che ha visto l'arrivo nella nostra regione di un numero di turisti pari a quello pre-pandemia del 2019 con le strutture ricettive quasi totalmente piene dal Gargano al Salento, soprattutto in queste settimane a cavallo del Ferragosto e dopo le numerose polemiche sul caro prezzi di ombrelloni, spiagge, parcheggi e ristoranti è giunta l'ora di tornare a casa. Ed ecco che così arriva il primo vero weekend da Bollino Rosso sulle strade della nostra regione, in particolar modo sulla dorsale adriatica che da Santa Maria di Leuca attraversa tutta la costa. E così in questo fine settimana i consueti spostamenti di chi trascorre una giornata al mare, il cosiddetto turismo di prossimità, si sommano i primi rientri dalle vacanze, soprattutto da parte di chi deve raggiungere le città del nord per tornare lunedì al proprio caro posto di lavoro. Nel barese resta come sempre la strada statale 16, la strada maggior rischio, criticità. Già dalle prime ore di questo fine settimana la polizia stradale segnala traffico intenso in entrambe le direzioni, soprattutto sulla tangenziale di Bari, ma il picco si raggiungerà con il trascorrere della giornata quando ai vacanzieri a lungo raggio si sommeranno quelli di rientro dalla giornata al mare. I consigli della polizia stradale sono sempre gli stessi, ovvero quello di prestare la massima attenzione alla guida e di evitare di mettersi in auto nelle ore più calde della giornata.